Benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso. Ed io con le famose parole del maestro Gigi Proietti vi do il benvenuto a Cultura e Spettacolo. In un luogo dove ovviamente la cultura, l'arte e lo spettacolo sono di casa, il teatro. Grazie a tutti. Siamo nel bellissimo teatro del comune di Bucine e qui ho l'onore di avere al mio fianco Piero Chierici che si occupa della direzione artistica proprio del teatro. Piero ben trovato. Grazie, grazie a voi. Conosciamo il tuo operato però vogliamo approfondirlo più nel dettaglio per Cultura e Spettacolo. Ma prima di parlare un po' di quello che è il tuo operato, sono personalmente molto curiosa di conoscere la tua storia con questo amore, con questa passione. Com'è nata la passione per il teatro? Allora, domanda difficilissima, domanda difficilissima però anche stimolante insomma. Una bella domanda perché io credo che ci si avvicini al teatro non per caso. Il teatro è qualcosa di molto atavico, ancestrale, insomma non per niente, non si parla proprio di antichi riti. E credo che sia un modo per creare qualcosa che ci fa in qualche modo crescere, che ci fa essere con gli altri. Io insomma da bambino, quindi parto da bambino, va bene, non so quanto, da bambino avevo, non ricordo, ma insomma l'infanzia, ci divertivamo a creare delle scenette, ma non è che prendevamo dei testi o proprio creavamo delle scenette con altri bambini. Per me era importantissimo questa cosa. Sentivo che questa cosa mi faceva stare bene, va bene? Quindi probabilmente in questo stare bene c'è stato tutto il mio desiderio poi di continuare a usare questo mezzo espressivo, che me ne rendo conto adesso ovviamente, allora non me ne rendevo conto, d'accordo, che era un mezzo espressivo. Insomma mi divertiva giocare, per me i sassolini diventavano, che so, delle pietre preziose e giocavamo su questa cosa. E quello è teatro, quando qualcosa si trasforma in un'altra, quello è teatro. Insomma probabilmente, chissà, poi le motivazioni, ci sono delle motivazioni che possiamo ricercare, del perché accadono determinate cose, per me era uno strumento, un mezzo espressivo, che poi probabilmente nell'età più adulta mi sono ritrovato. Ricordo bene che vedevo degli amici che salivano sul palco e per me questa cosa era importantissima. Io guardare quegli amici che salivano sul palco era un po' come riconoscere quei giochi che facevo da piccolo e che mi stimolavano a riprendere quel gioco. E allora, insomma, un po' tardi, tipo avevo 28 anni, ho fatto la prima scuola di teatro. Quindi, Piero, attraverso la tua esperienza potresti sicuramente confermare che il teatro è propedeutica alla vita, propedeutica a vivere le emozioni più profonde, a conoscerle da vicino. Infatti poi è nato un progetto che è proprio di Esis Teatranco. Com'è nato questo progetto? Come l'avete strutturato? Allora, sì, sicuramente per me, per la mia esperienza, il teatro è qualcosa che dà spessore, significato, diciamo, senso, diciamo, a un percorso anche di vita. Di Esis Teatranco è nato perché abbiamo frequentato la stessa scuola di teatro con Barbara, che è qui con noi, e Giovanni, che adesso non c'è, ma è un altro socio della compagnia, Moreno. Abbiamo frequentato la stessa scuola di teatro e avevamo quindi delle sensibilità comuni, delle sensibilità simili e abbiamo fondato questa compagnia nel 1992. Allora era un'associazione culturale, poi nel 2000 si è trasformata, è diventata una struttura cooperativa. Ovviamente le cose con il passare degli anni cambiano, si trasformano, è diventata pian piano, non subito, ovviamente pian piano è una realtà professionale, ci troviamo adesso ad operare con i nostri progetti. Avete una stagione teatrale molto ricca, anche con degli interventi molto interessanti, soprattutto vi state occupando del teatro sociale. Come avete strutturato questo vostro obiettivo iniziale, come si è evoluto nel corso del tempo? Perché comunque la storia del teatro rappresenta una grande evoluzione, quindi come vi siete veramente resi attuali e al passo con i bisogni dei tempi che stiamo vivendo? Domandona, domandona. Sono qui apposta, Piero. Come ci rendiamo attuali ai bisogni dei tempi è veramente una domandona. Allora, quello che posso dire, abbiamo iniziato per certi aspetti anche con una dose di ingenuità, come spesso accade con queste cose, però evidentemente le persone che ci hanno contattato hanno sentito anche una fiducia in certe cose, però per dirti che noi abbiamo cominciato il nostro percorso teatrale di relazione, diciamo, con la pedagogia del teatro in una comunità terapeutica. E lì abbiamo iniziato a, come dire, a costruire, a creare le nostre prime drammaturgie che nascevano veramente dalle persone che avevamo intorno. Ma non so tanto che avevamo intorno, eravamo in una comunità terapeutica, queste persone un giorno c'erano, un giorno no. Quindi anche queste drammaturgie cambiavano spesso e abbiamo creato un metodo quasi a partire da questo. Quindi mi stai dicendo, Piero, che gli attori non dissimulano affatto il loro operato sul palcoscenico? Direi che proprio così. E com'è l'effetto? Qual è la propedeutica? Qual è il risultato che avete come compagnia teatrale su queste persone, sugli attori che operano con voi? Allora, ovviamente i livelli sono diversi, va bene? Anche questa è una domanda estremamente interessante perché comunque stai centrando tutte le domande che fanno parte di un percorso. Ovviamente, dicevo, i livelli sono diversi perché anche adesso, anche con noi, ci sono persone che si avvicinano al teatro per passione, per curiosità, altre che si avvicinano magari con degli obiettivi professionali. Quindi ci sono i vari livelli, ma il metodo che utilizziamo, se così lo possiamo... Ma credo che dopo tanti anni possiamo dire che abbiamo creato un metodo, va bene? E di sicuro quando partiamo per costruire una drammaturgia, partiamo dalla relazione che nasce fra le persone. Questa relazione ovviamente la sviluppiamo, la proponiamo con gli strumenti espressivi che il teatro ci mette a disposizione. Non soltanto il teatro, all'interno della compagnia ci sono dei musicisti, quindi c'è la musica, c'è il lavoro sul movimento. E a partire dalle relazioni che nascono sul laboratorio, cerchiamo di capire, questo forse è anche in parte una risposta, se può essere la domanda di prima, com'è che ci rendiamo attuali. Forse guardando quello che accade, forse guardando quello che accade, d'accordo, in un gruppo, con le persone, e cercando di portare quello che accade a un valore di scena teatrale. Quindi portate il teatro ad essere una risposta sia al bisogno individuale che quello collettivo, questa è una bellissima cosa. Io ringrazio Piero, prima di congedarti però vorrei sapere, vorrei conoscere meglio qual è la poetica che seguite nel vostro progetto di Esiste Atranco. Ma guarda, la poetica appunto io credo che possa dirsi quella che ho descritto poco fa, anche se parlare di poetica è sempre estremamente difficile, è una cosa ampia, però sicuramente abbiamo anche un progetto che si chiama La pedagogia del cerchio, d'accordo? Abbiamo proprio un progetto di questo tipo. Posso dire che è una poetica che parte dal mettersi in cerchio, poi che ci mettiamo in cerchio, in un altro modo non importa, ma ci mettiamo in cerchio e cominciamo a guardarci uno con l'altro e da questo far nascere le relazioni che poi si trasformano con gli strumenti creativi, nascono le poetiche che poi portiamo sul palcoscenico. Davvero molto bello. Ti ringrazio, l'ultima domanda prima di congedarti, quindi quella era la penultima in realtà, qual è il territorio nel quale operate? Cioè il pubblico che ci segue a Cultura e Spettacolo, che comunque ha già iniziato a capire bene di cosa vi occupate, effettivamente l'operato dove si svolge come luogo fisico? Allora l'operato, la nostra sede di riferimento, diciamo, è comunque il Valdarno e questo teatro come residenza. Questo teatro attraverso, diciamo, una nostra progettualità è una delle 30-33 residenze artistiche della regione toscana. Quindi questa, diciamo, è la nostra residenza. L'operato di base è il Valdarno, ma le nostre relazioni ormai sono comunque a livello regionale, nazionale. Quindi c'è una bellissima realtà dal punto di vista proprio della regione toscana? Io me lo auguro e come realtà siamo anche parte della rete teatrale Aretina, che è un'altra, che è, diciamo, la struttura di riferimento per alcune compagnie professionali della provincia di Arezzo. e questo è. Perfetto. E se qualcuno volesse iscriversi ai vostri corsi teatrali, cosa deve fare? Allora può contattare il nostro ufficio, dove abbiamo, lavora con noi appunto, la nostra organizzatrice, diciamo, Chiara, Chiara Maggini, e può chiamare al numero 055 98 22 48 oppure inviare un'email a info-teatrango.it Ti ringrazio. Grazie mille, Piero. Prego. Sono con la dottoressa Barbara Petrucci, sempre nel bellissimo teatro del comune di Bucine. Ben trovata, Barbara. Ben trovata a te. Grazie. Ci stanno seguendo da Cultura e Spettacolo e quindi vogliamo approfondire ancora più nel dettaglio quella che è l'esperienza. In questo caso la tua esperienza riguardo proprio la cultura del teatro. Da dove nasce questa storia, questo amore con il teatro? Da molto lontano perché io ho cominciato da bambina, avevo 12 anni circa, e stavo facendo nuoto, per la verità. Ma a un certo punto un'amica, allora si giocava nei piazzali delle case, c'erano sempre questi spazi interni e si stava lì con le amiche durante il pomeriggio, un'amica parlò del fatto di andare a fare teatro. Teatro? Cos'è questa cosa? Fantastica! Mi sembrava una cosa fantastica e non la conoscevo. e lì ho deciso di andare, di seguirla, di andare con lei un giorno, un pomeriggio, e da allora sono rimasta incantata. Mia mamma, mi ricordo, mi disse scegli o il nuoto o il teatro. Io, sai, anche il nuoto, insomma, era per me una passione. Non lo so, una voce, qualcosa di dentro, mi disse proprio chiaramente teatro. E da allora non ho mai smesso. Devo dire anzi una cosa, siccome io ero cicciottella, e la mia mamma mi rompeva sempre le scatole perché ero cicciottella, da quando ho cominciato a fare teatro, la relazione con me stessa è cambiata completamente. Anche il fatto come ero, ero, ma riuscivo ad accettare la mia presenza. Interessante questo aspetto qua. Sicuramente da Aristotele a oggi, infatti, il teatro stesso ha subito grande evoluzione. Ma qual è l'evoluzione che subisce una persona che si approccia al teatro? Diciamo che devi affrontare delle cose inevitabili, che è quello di metterti in gioco, è quella di affrontare un pubblico, quindi di affrontare il giudizio degli altri su di te e devi affrontare la paura, la paura che tutto questo genera. Per cui devi affrontare te stessa. E non è vero che ti devi trasformare, mascherare o mettere vestiti diversi. Ti devi spogliare. Il teatro è proprio un atto di nudità, un atto di grande presa di coscienza di se stessi. Quindi dal punto di vista pedagogico, anche per un genitore, una mamma, un babbo che vogliono far avvicinare i propri figli, i propri bimbi, qual è l'intervento pedagogico che il teatro ti permette, in questo caso nel tuo operato, di apportare in una famiglia che ha voglia di far crescere i propri bimbi in maniera evolutiva e sana? Allora, il teatro pedagogico, poi la pedagogia teatrale che noi facciamo, diciamo che parte da un principio, che è il principio dell'educazione, ma educare nel senso antico della parola, educere, quindi tirare fuori. Se un bambino ha delle cose dentro che non riesce a esprimere, che non riesce a comunicare, fare teatro significa un grande stimolo, una grande facilitazione a fare questo. Quindi lo consiglio specialmente a quelle persone, a tutti consiglio di fare teatro, ma sicuramente a quelle persone che hanno dei figli o che hanno loro stesse delle difficoltà ad esprimersi. Mi sta emozionando, Barbara, perché dovete sapere che anche io, fino a qualche anno fa avevo attacchi di panico, balbettavo, sono una bimba che ha iniziato teatro a nove anni, quindi mi tocchi veramente nel profondo. Bello questo messaggio che hai voluto delineare. Qual è la poetica che stai seguendo nel tuo operato? Allora, come già ha detto Piero, la nostra poetica è veramente questo teatro tra la gente, scusate, teatro tra le persone, con l'attenzione alla persona quale è. non si affronta nessun personaggio senza la persona. È l'anima, è la natura del personaggio, la persona. Qualsiasi azione teatrale che noi facciamo ha bisogno dell'attore, quindi di un essere che mette in gioco tutto se stesso. E questo, l'essere che mette in gioco tutto se stesso, almeno ci prova, cercando l'autenticità, io credo sia in sé che negli attori, anche quando faccio regia, cerco sempre di arrivare a un punto in cui l'attore che sta lavorando sul palcoscenico agisce in modo da stimolare la propria teatralità innata. È interessante questa cosa qui, Barbara. Di solito comunemente si dice quello è un attore, quindi sta fingendo. Mi sembra uno simolo quello che stai dicendo. Hai toccato la radice educere, di educare, quindi condurre fuori. In che modo se un bimbo, piuttosto che un adulto, ecco qui vorrei sapere anche a che età, si inizia a fare teatro, se necessariamente da bambini o da adulti, in che modo un adulto o un bambino arriva a fare teatro con voi o comunque con qualsiasi, in questo caso realtà teatrale, e anziché vestirsi di un personaggio in posto addirittura si spoglia, come hai detto te prima. In questo ci vengono, diciamo, in soccorso e in aiuto tutte quelle che sono le tecniche del training dell'attore. Il teatro ha tutta una serie di tecniche che si studiano quando si fa laboratorio e che sono veramente dei grandi stimolatori per lasciarsi andare, per aiutarci a mettersi in gioco e questo tipo di lavoro aiuta in tutte le età. Non c'è un... Il processo evolutivo io credo che sia dall'inizio, da quando un cuore comincia a battere, quindi c'è questo momento di movimento e ritmo iniziale, a quando alla fine succede che smette di battere e comunque cambia il ritmo. In tutto questo percorso della nostra esistenza si può cominciare a fare teatro. Noi abbiamo da bambini, lavoriamo con i bambini di tre anni come con le persone di 76 anni e ci sono dei gruppi tipo il laboratorio di teatro sociale, il laboratorio permanente che noi abbiamo dal 2006, dove veramente sono integrate tutte le età, tutte le persone e anche le discipline artistiche. Quindi si lavora proprio... Quando si dice che si lavora con l'uomo, si lavora con l'uomo in tutte le sue variabili. Quindi, cari telespettatrici, cari telespettatori, cosa state aspettando? Se ancora non avete fatto teatro, iniziatelo subito, anche se avete 80-90 anni, perché siete ancora giovani per il teatro. E se non me la sento ancora di iniziare a fare teatro, domanda, posso venire a guardarvi che tipo di appuntamenti avete? In questo caso, ci sono dei workshop dove uno può provare perché magari è tanto timido e non ce la fa, Barbara? Sì, noi abbiamo il nostro, appunto, come dicevo prima, il laboratorio permanente di teatro sociale che comincia proprio ora, a gennaio, perché di solito è annuale e va, diciamo, il percorso con l'anno solare. Quindi abbiamo quel tipo di laboratorio oppure abbiamo i laboratori, la scuola di teatro di Dieziste a Trango, per chiunque voglia venire. Naturalmente, la scuola di teatro, diciamo, i corsi serali cominciano all'inizio dell'anno, diciamo, dell'anno scolastico, a ottobre, quando cominciano di solito tutti gli altri corsi. Quindi se qualcuno ha voglia di... Questo fatto, te dicevi, di osservare, di stare un attimo ad osservare prima di entrare in gioco. Questo è possibile, anche se, diciamo, che la relazione che noi di solito quando vengono ad osservare le persone, cerchiamo sempre di coinvolgerla anche nel gioco, perché è un gioco. È un gioco con un sacco di momenti di difficoltà, di crisi, di... un sacco di ostacoli da affrontare, ma è un gioco. E non è una missione impossibile. È un gioco dove si può riuscire vincitore, in qualche modo, di quelle che sono poi i propri quesiti interiori legati all'anima, quindi alla profondità dell'essere che si avvicina. Io spero che sia un gioco dove si impara a perdere. È interessante questa provocazione. Adesso, Barbara, me la devi spiegare meglio. Cosa vuol dire? Spiegaci meglio. Abbiamo molta paura, tutti quanti, del fallimento. E questa paura del fallimento ci mette, lo vedo nei giovani, insomma, lavoro in tanti contesti educativi con i giovani, ci mette nelle condizioni di non accettare i nostri limiti, di crollare di fronte al momento di difficoltà. Mentre invece questo fatto di imparare a perdere, perché perdere un momento vuol dire imparare qualcosa per affrontare il momento successivo. Beh, questa cosa, secondo me, è bene che accada. Bellissima questa cosa qua. C'è anche un appuntamento legato a quello che hai appena detto. Avete un laboratorio specifico, un workshop specifico legato a questo? Diciamo che questo è un'esperienza che accade in tutti i nostri corsi. Dei laboratori specifici, ora, in questo momento, che in partenza, diciamo, non ci sono, ma noi abbiamo tanti lavori che stiamo facendo con associazioni di pedagogia teatrale con specifiche situazioni legate al disagio. Diciamo, situazioni più specifiche legate al disagio. Quindi, per esempio, ecco, per farti capire, abbiamo un'attività con madri che hanno, che hanno persone che hanno dei figli disabili, quindi una situazione in cui dei genitori con particolari difficoltà lavorano teatralmente e scoprono, diciamo, un sacco di cose, un sacco di possibilità che non avevano proprio considerato. Bellissimo, questa cosa io ti ringrazio, Barbara. A te. Sono con il dottore Filippo Mugnai, formatore e attore del teatro del comune di Bucine per Diesis Teatrango e do il bentrovato anche a te, Filippo. Grazie, bentrovato anche a voi. Grazie. Filippo, qual è il tuo ruolo come attore, formatore e quant'altro appunto nella struttura di Diesis Teatrango? Io per Diesis Teatrango sono sia attore nei vari spettacoli che formatore per laboratori per adulti e bambini e poi anche nelle scuole, i licei, scuole medie. Mi occupo dei laboratori della formazione dei ragazzi perché vengo direttamente da lì e poi nel teatro di Bucine faccio il tecnico quindi mi occupo di luminotecnica, fonica e quant'altro. Anche perché, Filippo, tu sei un giovanissimo attore nonché esperto perché hai una formazione accademica, universitaria importante ma sostanzialmente anche una formazione proprio sul campo. Ti va di raccontarci questa tua storia con il teatro e quello che è stata la tua diretta esperienza, la tua testimonianza? Sì, perché ho la laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo quindi dalla parte accademica c'è qualcosa che attesta veramente questa conoscenza però sul lato dell'esperienza si parte molto prima della laurea perché avevo penso otto anni la prima volta che ho fatto qualcosa e come Barbara anch'io sono partito dallo sport giocavo a basket e ritrovandomi in uno dei campi estivi c'erano i momenti di gioco tra i ragazzi dove con degli animatori dovevamo creare delle scenette teatrali e mi sono sentito tanto bene in quel momento che mi è rimasto sempre quello spazio nel cuore di teatro che per il momento ho lasciato lì poi tornando a scuola le maestre ero piccolo ci fecero fare un progetto dove dovevamo mettere in scena delle persone famose quel progetto io l'ho odiato ti giuro l'ho odiato non mi piaceva però mi ha fatto tornare in mente quell'esperienza del campo estivo da allora ho cominciato a fare corsi di teatro scolastici prima poi sono entrato anche corsi scolastici con di esiste a trango poi sono entrato in una compagnia amatoriale a San Giovanni Valdarno e poi finita la scuola erano finiti i corsi scolastici però dovevo continuare allora ho mantenuto questo ruolo di allievo della scuola di teatro e poi piano piano dal ruolo di allievo ho imparato ho continuato a seguire a seguire prendere appunti studiare per arrivare da allievo a diventare maestro diciamo non proprio maestro però formatore e ho imparato tantissime cose in questo percorso perché sono passato da fare corsi con ragazzi da ragazzo corsi con ragazzi da adulto a corsi con adulto con adulti da ragazzo e corsi da adulti come adulto quindi le ho fatti tutti è stato importante per me molto l'esperienza con il laboratorio permanente di teatro sociale perché mi sono trovato a cambiare il punto di vista perché nel laboratorio permanente ci sono appunto uomini donne di tutte le età con disabilità e non e lavorare con persone con disabilità ti porta automaticamente a cambiare il tuo modo di fare il tuo ritmo il tuo modo di vedere le cose perché entri in relazione con delle persone che hanno tutta un'altra storia da raccontare rispetto a te quindi come dicevamo prima anche con Barbara è una vera e propria propedeutica della vita e il teatro ti insegna in qualche modo ad abbassare appunto i riflettori su quello che è il giudizio nei confronti degli altri e ti aiuta a imparare diceva Barbara a perdere ma in realtà io sto vedendo dei grandi vincitori tra l'altro tu sei un ragazzo timidissimo quindi hai detto prima hai iniziato anche da bambino da ragazzo e viva le insegnanti direi io le educatrici fino ad arrivare ad uomo maturo adulto uomo fatto in questo caso proprio all'interno di questa esperienza ti va di approfondire meglio questa cosa qua soprattutto legata al teatro sociale la tua esperienza sì devo dire che sono stato fortunato perché comunque ho trovato un gruppo che ha la capacità di essere molto accogliente ci sono ogni tanto dei gruppi di teatro che magari tendono a fare appunto il gruppetto dentro e per entrare ci vuole un po' di tempo invece con il ricambio delle persone del laboratorio permanente o comunque con il gruppo del laboratorio permanente la bellezza è che si crea una relazione come dicevano prima Piero e Barbara che è impossibile non entrare e a lasciarsi andare perché se non ti lasci andare non ti godi l'esperienza e lo senti ed è proprio importante questo io ero come hai detto anche tu ero timidissimo avevo proprio problemi a stare con le persone in generale ad aprirmi con le persone fino a poco tempo fa pochissimo tempo fa ci ho ripensato anche alla fine del liceo per dire quindi è molto recente come cosa però il lasciarsi andare l'imparare a lasciarsi andare e imparare a perdere non a perdere come dire la sconfitta perché non c'è una sconfitta perdere non vuol dire essere sconfitti ma perdere vuol dire anche perdere i propri blocchi perdere le proprie inibizioni lasciarsi andare per godersi veramente le cose che accadono belle brutte che siano però sono quelle che poi ti rimangono e ti fanno crescere ti fanno maturare è molto importante il lavoro con i disabili è bello per questo perché tu non hai idea di cosa andrai a fare cioè arrivi lì con un'idea in testa puoi partire e dici oggi faccio questo oggi faccio un movimento di questo tipo e gli altri lo faranno come me non succederà perché loro sono i protagonisti assoluti io ho visto qualche vostra rappresentazione sono veramente degli attori nati è vero in un mondo Filippo dove tu sei estremamente giovane è una bella rappresentazione per tutti noi giovani in un mondo dove siamo nell'era del social della fotoritoccata siamo tutti perfetti quindi ci dà in qualche modo sicurezza siamo dietro assolutamente a delle realtà apparenti siamo dietro all'apparenza in che modo come diceva anche Barbara in questo caso voglio sapere la tua esperienza da giovane attore formatore il teatro ti spoglia ma nello stesso tempo però ti mette a nudo in un modo costruttivo e non distruttivo come spesso magari abbiamo paura che ciò accada il discorso dei social in effetti è un po' una problematica anche per me perché io sono molto tra virgolette social perché mi piace stare a vedere non c'è niente di male siamo nell'era dei social in che modo però il teatro è attuale in questo caso esatto nel mio stare a vedere mi rendo conto che quello che faccio non ha niente a che fare con la vita che farei vedere se postassi cose sui social perché nel teatro sei completamente dentro la cosa come sei tu quindi vivi le emozioni che provi in quel momento se arrivi con la rabbia e devi provare delle cose con la rabbia ci sarà e devi metterti in gioco e stare al gioco con la rabbia che hai in quel momento con la felicità oppure con la tristezza quello che senti ed è il bello è il bello della cosa è che con l'emozione che provi in quel momento cosa che magari il social non ti dà riesci a creare cose meravigliose se invece vai come con i social ok vado lì faccio una cosa poi allora la sistemo allora la farò così però la farò metterò il braccio in questo modo e la fai meccanica come alla fine sono le foto per esempio che vediamo su internet sì magari può essere bella esteticamente però non ti dà niente a livello emotivo e invece è lì il nodo della questione cioè l'emozione quella che la fa da padrona sul palco e nel teatro se non c'è emozione anche te ti devi emozionare per primo perché se no non ha senso quindi dal punto di vista anche sociale emotivo personale vorresti dire che comunque stare troppo dietro nel mondo virtuale dei social in qualche modo crea insinua il seme dell'insicurezza anche nelle persone ipoteticamente sicure e invece fare teatro significa acquisire maggiore sicurezza e padronanza di sé sta dicendo proprio questo Filippo? sì assolutamente perché poi nei social rischi di appunto perderti in varie cose mentre viceversa nel teatro hai quasi la certezza di ritrovarti in realtà ritrovare la tua interiorità la tua persona la tua personalità e il bello è imparare a star bene con questa cioè io sono fiero di essere come sono anche perché noi siamo autentici ogni individuo non esiste una similcopia di noi quindi anche l'oracolo di Delphi nell'antica Grecia sortava Gnotis Auton conosci te stesso e direi che questo è il viaggio che garantisce questa cosa qua Filippo un appuntamento per quanto riguarda i workshop soprattutto per i giovani perché comunque il teatro è per tutti ma soprattutto per i giovani anche eh anche sì ma poi per chi vuole partecipare comunque il teatro è sempre aperto a tutti e un appuntamento per il workshop c'è il 7-8 aprile c'è un workshop diviso tra virgolette in tre parti ovvero ci sarà una parte drammaturgica con Ciro Gallorano di Cantiere Artò un workshop tenuto da Desis Teatrango e Cantiere Artò in collaborazione una parte di coreografica diciamo più che altro teatro di movimento e poi una parte appunto di di teatro di recitazione del metodo di Desis Teatrango con appunto Piero Cherici che condurrà questa parte qua ed è un workshop interessante perché ti fa vedere gli spunti per ogni parte del lavoro attoriale che sia il movimento il testo e il mettere in scena qualcosa e lo stare in scena Filippo c'è qualcuno che pensa di non amare il teatro e sicuramente ci starà seguendo magari qualche telespettatrice o qualche telespettatore sicuramente sono pochissimi però a queste persone che non amano il teatro probabilmente sicuramente perché non hanno avuto l'onore e il piacere di conoscere di toccare con mano l'esperienza teatrale cosa diresti cioè un incentivo a riempire i teatri di tutta Italia che in qualche modo è una cultura veramente fondamentale sulla quale si fonda anche la nostra esperienza di vita cosa diresti a queste persone cosa direi direi come facciamo noi nei nostri laboratori bisogna mettersi in gioco provare a buttarsi e vedere stare al gioco quello che succede magari va bene magari va male però sicuramente già il fatto di provare a entrare in teatro a vedere uno spettacolo anche senza sapere cosa sia proprio dire passo davanti al teatro c'è uno spettacolo entro già quell'atto lì fa scattare qualcosa nelle persone che dice magari questo non mi è piaciuto ma il prossimo che vado a vedere mi piacerà di più è tutto un buttarsi buttarsi perché io credo veramente che le emozioni che si provino a teatro non si possano provare in altro modo ci sono altre emozioni che si provano con il cinema con la musica però quelle che succedono a teatro sono uniche perché poi anche uno spettacolo non lo vedrai mai più come l'hai visto la sera che assisti appunto allo spettacolo in scena e quindi è un appuntamento unico che non si ripeterà mai più e ti permette in qualche modo di riscoprire un po' te stesso anche da spettatore in questo caso io vedo degli strumenti Filippo quindi l'ultima domanda e poi salutiamo il nostro pubblico che serve scusa gli strumenti a teatro spiegaci questa cosa qui gli strumenti a teatro sono fondamentali li usiamo spesso perché comunque anche la musica aiuta per magari creare delle atmosfere far provare anche delle emozioni perché non c'è niente di male nel unire le arti anzi benvenga benvenga unire le arti perché l'unione fa la forza e l'arte sta di casa giusto a teatro ringrazio Filippo Mugnai ringrazio Diesis Teatrango e da Cultura e Spettacolo speciale teatro di Bucine nel comune di Arezzo è tutto vi salutiamo e vi lascio al prossimo appuntamento seguiteci nella prossima puntata di Cultura e Spettacolo e aspetta un po' anche te spettatrice e telespettatore se hai qualcosa da raccontarci di speciale legato alla cultura e allo spettacolo della nostra bellissima regione toscana scrivici alla mail in sovraimpressione ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.